buongiorno ragazze benvenute o bentornate qui sul mio canale oggi finalmente un nuovo video blog e oggi è 14 si 14 luglio e finalmente sono libera dalla sessione estiva ho fatto ieri l'ultimo esame è andato benissimo quindi sono super contenta e oggi diciamo che sarà il mio giorno di riposo e quindi ho pensato di registrare dato che mi mancate tantissimo e anche perché vorrei approfittare del fatto che devo registrare per fare una serie di cosine in casa che sto rimandando da un po difatti programmi di oggi saranno questi adesso mi alzo assolutamente dal letto anche se sono sveglia dalle 5 adesso sono più o meno le otto però mi alzo dal letto mi sono semplicemente alzata prima per fare colazione e darmi la sistemata e però sono rimasta qui a letto e niente quindi mi alzo cerco un attimino di rinfrescare un po i pavimenti perché in questi giorni non l'ho fatto e poi ci mettiamo a sistemare la scarpina dell'ingresso è un lavoro che sto rimandando da un po perché lì c'è da fare anche un piccolo decluttering e soprattutto devo cercare una sistemazione che abbastanza efficace perché purtroppo le scarpe sono tante e ovviamente messe così non vanno bene infatti adesso vi faccio pure vedere la situazione abbastanza disastrosa ovviamente ci sono tutte scarpe invilate una sull'altra e ovviamente mi si rovinano mi si macchiano per evitare questo oggi cercherò di eliminare alcuna alcune paia di scarpe che comunque non utilizziamo più che si sono rovinate e cercare di dare una sistemazione un'organizzazione un po più diciamo ottimale così che poi non mi ritrovo ogni volta nella stessa situazione iniziale quindi facciamo questo e poi se riesco sistemiamo qualche altro angolino di casa perché in realtà ho un po di spazi da doverli sistemare come ad esempio di nuovo il mio armadio devo fare un bel decluttering però quello penso lo farò un po più là perché la maggior parte dei vestiti che poi andrò a togliere voglio metterli comunque in vendita su vintage e quello mi richiede un po più di tempo invece quando si tratta di d'esempio come in questo caso delle scarpe so che le andrò a buttare e non le vado a vendere non lo so una mia paturnia cioè non mi piace vendere delle scarpe usate anche se possono essere diciamo in ottimo stato ma non mi dà il senso di igiene non vi so dire comunque detto questo vi faccio vedere la situazione della scarpiera e poi iniziamo subito a sistemare e poi ora ragazze vi mostro la situazione attuale della mia scarpiera che non è altro che un mobili che ha normalissimo questa è la situazione attuale non so come mettermi per farvi dire un po da lontano ecco facciamo così quindi è un caos adesso lo svuoto tutto pulisco tutto e cerco di capire come sistemare iscriviti al canale le ragazze ho fatto le faccio vedere sono super soddisfatta ho deciso di togliere le coperture che avevo ma per il semplice motivo che mi creavano caos praticamente diviso il tutto così scarpe sportive non fate caso alcune devo ancora pulire ma queste sono particolari quindi non so come pulirle bene e prima di fare danni aspetto qui ci verranno le scarpe che ha in utilizzo il mio fidanzato al di sotto tutte le mie scarpe un po più elegantucce diciamo e a fianco le ciabatte e infine giù tutte le scarpe che utilizziamo di meno mi rendo conto che la maggior parte della scarpiera è occupata dalle mie scarpe diciamo che solo giù ci sono le scarpe del mio fidanzato però sono fissata con le scarpe non riesco a rinunciare ho buttato un bel po delle mie scarpe quindi è così però va bene sicuramente il mio fidanzato non dirà niente spero e quindi questa è la sistemazione che ho adottato ci ho messo un po prima di riuscire a arrivare a una conclusione diciamo di come organizzare però secondo me così potrebbe funzionare spero l'ultima spiaggia se nemmeno questo tipo di organizzazione dura sarà quella di comprare dei divisori non so se ci vedete presente quelli di Ikea per le scarpe ma spero di no in realtà perché comunque costano un po così ma per tutte le scarpe che abbiamo cioè che abbiamo che ho se ne andrebbero un bel po di soldi quindi non mi va sinceramente di spendere dei soldi per delle cose in plastica tra adesso vediamo un attimino spero che piacerà la sistemazione anche il mio fidanzato detto questo vado a fare alcune cosine off camera e poi vi riprendo di nuovo e vi aggiorno su quello che ho fatto allora ragazzi a mezzogiorno riprendo a registrare adesso vi faccio vedere un po quello che ho fatto e come vi dicevo oggi volevo praticamente dedicare la giornata anzi la mattinata alla l'organizzazione alla sistemazione nei vari mobili e in modo particolare mi sono dedicata al puff contenitore che ho qui in camera da letto che era super pieno di roba pieno di libri pieno di cose che ho praticamente messo un po su vintage in vendita e un po in una busta a parte che porterò in garage perché altrimenti ragazze da qui non ne usciamo perché sono tantissime cose la casa è quella che è piccolina quindi non ho diciamo molto spazio per riporre tante cose ho buttato un sacco un sacco di roba e cose comunque rotte cose che non utilizzo più quindi ho eliminato un bel po di cose ho fatto anche dei cambiamenti piccolissimi nella libreria in cucina del soggiorno cucina in più ho sistemato la lavanderia e ho sistemato il bagno quindi sono veramente cotta adesso cerco un attimino di farvi vedere in tutto questo non ho ancora rifatto il letto però penso che mi prenderò una pausa più o meno fine luna andrò a mangiare e poi rifaccio anche il letto adesso vi giro e vi faccio vedere quello che praticamente questo è il puff contenitore che vi dicevo e questo qui ragazze senza scherzare ma non si chiudeva più quindi è diventato un po difficile ecco da gestire e quindi mi sono remessa e ho risistemato il tutto al meglio perché meglio di così ragazze non sono riuscita comunque ho eliminato un sacco un sacco di cose già sono soddisfatta e qui prima era pieno pieno di libri quindi questo tutti i libri che vi dicevo ho praticamente deciso di sigillarli in un certo senso all'interno di queste buste che poi porterò in garage così saranno lì e soprattutto vi ripeto alcuni di questi libri li ho messi in vendita su vintage quindi se vi può interessare andate lì e vi lascio nel caso il link nell'info box del mio vintage poi ho sistemato anche da questo lato dell'armadio in modo particolare mi sono concentrata in questa zona che la zona del mio fidanzato sempre quella più incasinata dove praticamente ho sistemato un po di fili sistemate un po di scatole insomma cose così e qui ho incartato il pacco di shane che devo fare il reso e qui ci sono altre così in esempio il mio fidanzato ma ho cercato comunque di dargli un senso diverso dato aspetto anche a questa zona della camera ho deciso di togliere la televisione e di mettere alcune cosine che a proposito queste tre cose voi non le avete ancora mai viste penso questo è un portaggio di mia nonna era un portaggio di mia nonna che l'ho tenuto per ricordo mi piaceva tantissimo dove all'interno le mie cosine quotidiane e qui invece da questo lato questa è una candela che mi è stata regalata da una mia amica per il mio compleanno e questo è un portacandela che devo comprare la candela adatta di jask e quindi ho deciso di sistemare in questo modo e sinceramente mi piace molto 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 lo vi faccio vedere anche qui ho risistemato un po il tutto declatterato un po di cosine che tanto ormai non utilizzavo più e adesso sono molto soddisfatta anche qui come vi dicevo ho cambiato qualcosina ho deciso di cambiare in modo particolare questi ultimi due ripiani e ho voluto esporre questo piatto oro che mi piace tantissimo anche se è molto semplice e sotto la diciamo le solite piantine che ho sempre e mi piace anche quest'angolo qui infine vi faccio vedere anderia però dimenticavo di quest'altro dettaglio ovvero vicino alle nostre iniziali ho deciso di metterci questo salvadanaio e però con una cartolina che prendiamo a pisa e mi piace tantissimo come come così che riprende anche il cubotto a fianco quindi ho deciso di lasciarle in questo modo quindi ragazzi in lavanderia anche qui uno sguardo veloce e ho sistemato semplicemente i prodotti e qua non fateci caso ma devo pulire e sistemare il fuori siccome queste sono tutte cose pulite le ho messe le ho lavate le ho messe ad asciugare e una volta asciugate le ho riposte e qui perché sto aspettando di pulire fuori e poi di andare a risistemare finalmente ora di pranzo e oggi ho deciso di mangiare questo riso insalata che in realtà ho fatto ieri con tonno citrioli mozzarella pomodorini olive e penso basta comunque ragazzi buonissimo io poi l'adoro in estate quindi perfetto per oggi anche perché vado abbastanza veloce infatti sto pranzando un po prima perché più o meno l'una meno dieci perché poi pomeriggio delle commissioni da fare quindi non riuscirò a non riuscirei a stare con i tempi quindi meno male che ho già il pranzo poi ragazzi dopo pranzo sono di nuovo qui in camera sto scegliando l'outfit per oggi e siccome so che tornerò abbastanza tardi a casa e tornerò stanca dato le varie faccende che devo fare vi saluto già qui io spero tantissimo che il blog vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia e soprattutto che vi abbia motivato a sistemare alcuni angoli di casa vostra e cose simili quindi detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me io vi mando un grosso bacio e al prossimo video ciao